Verbania, l'autostrada A26 Voltri Sempione è chiusa all'altezza di Carpugnino, nel Verbanio Cusio Ossola, per un incidente stradale, che tra le cause le piogge intense, quattro i mezzi coinvolti, il conducente di un furgone è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale maggiore di Novara, sulla statale del Sempione, invece, nevica dai 1800 metri ed è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio.